salve a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web anticipazioni la rosa della vendetta nell'attesa che settembre arrivi vi lascio un'anticipazione che sicuramente vi farà piacere che riguarda proprio armagan figlio di zaffer nonché anche fratello di gulce mal e deva ma andiamo nei dettagli scopriamo che cosa accadrà la vita di armagan non è stata per niente facile costretto in una sede a rotella a causa di una disabilità è sempre cresciuto un po in solitudine un carattere introverso forse dovuto anche dalla morte del padre mustafa ucciso in maniera brutale da gulce mal solo per vendetta anche se lui ha sempre saputo che fosse morto per una malattia corso degli anni però ha sempre potuto contare sull'amicizia di deva e ipec soprattutto di quest'ultima che ne è stato sempre innamorato ma non si è fatto mai avanti in quanto temeva che la ragazza lo potesse rifiutare la coppia per prima farà vista zaffer e gulendam che rimarranno sballordite quando vedranno armagan entrando a casa mentre cammina sulle sue gambe le due donne non riusciranno a trattenere la gioia nelle prossime puntate della rosa della vendetta quando tutto sembra andare per il meglio scopriremo la morte di gulce mal prima di andarsene però lui lascerà dei legali alle persone a lui più care ad esempio a suo fratello armagan donerà un percorso di cura in una clinica svizzera che potrebbe permettergli di camminare come vediamo da queste immagini così sarà passeranno cinque anni armagan e ipec sono sposati e vivono all'estero annunceranno le loro rispettive famiglie di essere di ritorno a casa armagan se non fosse stato per gulce mal infatti probabilmente sarà ancora su quella sedia a rotelle dice armagan felice finalmente di poter camminare e soprattutto felice che il suo amato fratello gli abbia donato una cura per poter tornare a vivere